venerdì 15 settembre beata vergine maria addolorata è il 258 giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 107 al termine il sole sorge alle 6 e 49 e tramonta alle 19 e 22 la luna leva all'1 e 21 e tramonta alle 16 e 31 l'imperatore federico barbarossa stipula un trattato con venezia in esso vengono rinnovati e confermati tutti i patti stipulati con i precedenti imperatori tanto circa i confini quanto riferendosi ai boschi alle vigne e ad ogni altro possedimento veneziano nelle terre imperiali tra l'altro vengono altresì proibiti ogni insulto molestia e l'appropriarsi da parte dei sudditi dell'impero di qualsiasi cosa appartenga a navi veneziane che facessero un naufragio le previsioni per domani in prevalenza nuvoloso fino al primo mattino probabilità medio alta di precipitazioni sparse a tratti diffuse sui settori orientali in seguito fenomeni sporadici e discontinui a fine giornata possibili fenomeni più diffusi in pianura temperature stazionarie o in aumento venti in pianura deboli e di direzione variabile in quota moderati meridionali